natura ti vuole magra le industrie alimentari ti vogliono grasso tela guarda un po questa è una mela e la mela sono uno delle poche fonte di carboidrati naturali hanno il 10 per cento di zuccheri cioè che 100 grammi di mela a 10 grammi di zuccheri se prendiamo la pasta il riso il pane le farine il mais su tutte quelle cose industriali coltivate che tutto stanno distruggendo il pianeta e hanno il 78 per cento di carboidrati la natura che oltretutto ci dà tutta questa serie di alimenti carne pollo tacchino selvaggina uova frutta secca sono alimenti che producono poca reazione di insulina perché hanno poco glucosio sono alimenti che fanno dimagrire le industrie alimentari sono tutti alimenti che producono una reazione esagerata di insulina troppa energia tutta l'energia in eccesso la mettiamo qua attorno o la mettiamo nelle cosce grazie grazie all'insulina che ce l'ha immagazzinata